ciao a tutti a distanza di un anno ci ritroviamo qui sulla sommità dell'etna dietro di me vedete il cradere di nord est in questo momento siamo proprio tra il cradere di nord est e il cradere della voragine dove è localizzata l'attività in corso adesso ci muoveremo molto cautamente per trovare il miglior punto di osservazione e vi mostreremo l'attività lavoraggine a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un'ultima panoramica sui crateri sud-est Il crateri di nord-est La voragine Nell'attività Il rosso Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti